Ciao a tutti, non implorare l'attenzione di nessuno e tantomeno l'amore. Allora, prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, non bisogna chiedere l'amore di nessuno, soprattutto di quelli che dimostrano di non avere tempo per te, di non pensarti, di non essere in contatto con te profondo. L'amore non deve essere dimostrato, non dovrebbe mai, mai e poi mai essere mendicato. Quindi diciamo che ogni volta che imploriamo, chiediamo l'amore, diamo un segnale profondo al nostro cervello di non meritarlo. E quindi la nostra parte emotiva tenderà ad andare a ricercare le proprie persone che ci negheranno l'amore. Questo è un dato di fatto, quindi per legge dell'attrazione, se noi cerchiamo, imploriamo, mendichiamo qualcosa, quella cosa lì non la troveremo. In amore chi si dimostra affamato morirà di fame. Quindi questo è veramente, è veramente importante. Noi dobbiamo dare importanza alle persone che ci danno importanza. Dobbiamo amare le persone che scambiano, che interagiscono con noi. Se una persona si mette a solo pretese e non ti dà nulla, non merita il nostro amore. L'amore deve essere uno scambio di energia, un'energia che circola. Se una persona non vuole far circolare perché ti mette tutto un sacco di paletti, un sacco di condizioni, quello non è amore, quello è un mercanteggiare. Dobbiamo lasciarci andare a persone che si lasciano andare nei nostri confronti. Quindi ecco la cosa fondamentale da ricordare è quella. L'amore è reciproco, è reciprocità, non è univocità. Quindi se abbiamo bene chiaro in testa questo, riusciremo a capire che se una persona non entra in sintonia, non entra in risonanza con noi, non importa. Ne troveremo sicuramente un'altra, non c'è nessun problema. Quindi alcune regole fondamentali. Allora, non chiamare chi non ti risponde alle chiamate. Smettila di chiamarlo. Non cercare chi non ti cerca mai. Non perdere tempo con persone che non ti cercano, con persone che non ti vogliono. Non scrivere a chi non risponde a un tuo messaggio. Se una persona ti dà indifferenza, dai semplicemente indifferenza e trovati altre situazioni. Queste sono regole che vanno sempre mantenute. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!